Vai in diretta! Buongiorno amici, questa è la prima delle dirette del Bocconi Live Days. Come mai c'è questo interesse per l'arte contemporanea? Quante associazioni sono presenti in Bocconi? Come mai il pellicano? Cos'è Bisma? Raccontateci un po'. Come mai avete scelto questo corso? What do you enjoy about living in Milano? Va benissimo, siamo stati tutti bravi. Grazie.